Un nuovo paese dove ci sia l'opportunità di un benessere equo e sostenibile per tutti e una nuova pubblica amministrazione digitale. Due hashtag, si può fare se e si può fare con, che rappresentano il percorso per arrivare alla doppia meta e che sintetizzano il programma del Forum PA 2015. Ad aprire i lavori dell'appuntamento annuale il ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, Marianna Badia, che ha tracciato il punto sulla riforma della PA e sugli obiettivi. Mi aspetto prima di tutto che questa legge e l'attuazione e l'implementazione di questa legge ci porti uno Stato che sia uno Stato semplice per i cittadini e per gli imprenditori, che non meritano più di avere come Stato in questi anni troppi livelli di amministrazione, troppa burocrazia, una proliferazione di norme, di carte, insomma uno Stato che ti complica la vita, che ti complica un progetto imprenditoriale se tu vuoi investire delle risorse in un territorio, anche se vuoi venire da fuori ad investire in Italia delle risorse in un territorio. Noi vogliamo uno Stato semplice, uno Stato amico di cittadini e imprenditori. Da parte sua il direttore di visione business di Telecom Italia Team, Simone Battiferri, ha sottolineato il grosso investimento per la digitalizzazione, in particolare per il cloud e l'information technology. Telecom Italia sta investendo un mezzo miliardo di euro sul fronte delle infrastrutture per i data center e per piattaforme intelligenti, ha detto. Complessivamente Telecom investirà nel triennio 2015-2017 10 miliardi di cui 5 in innovazione. Battiferri ha precisato che il piano per la banda ultralarga, che ha l'obiettivo di raggiungere il 75% della popolazione al 2017 in fibra ottica e il 95% in LTE, sta andando avanti. Siamo anche leggermente in anticipo.